In rappresentanza del FSI USAE anche il sindacalista Roberto Ronca è intervenuto su Cilento Channel per parlare del ritardo sull'apertura dell'ospedale di Agropoli. Ronca ha mostrato perplessità. Sembrerebbe che non tutti sono convinti di questa riapertura, detto, o almeno la si sta prendendo con calma. Ci può essere la difficoltà dei lavori, la mancanza di medici, però se si avvia un progetto d'urgenza si dovrebbero già avere tutte le risposte. Ci auguriamo che non ci sia più il bisogno urgente del Covid Hospital di Agropoli, ma cominciamo ad avere dubbi se realmente c'è la volontà di riaprire questo ospedale. Siamo quasi fermi, è stato dedicato tutto all'emergenza, qualsiasi altra patologia o intervento chirurgico è stato sospeso. Naturalmente queste indicazioni, abbinate alle visite con accompagnatori, hanno portato a far tirare indietro le persone dalle strutture pubbliche. Se non si riapre, anche scaglionando la programmazione dei controlli e se non riavviamo l'attività ordinaria degli ospedali, si rischia di partire molto lentamente. Roberto Ronca si è espresso poi anche sulle richieste fatte dagli operatori sanitari impegnati nell'emergenza all'ASL. Considerato che stiamo parlando di fase 2, si deve riprendere quello che è stato tralasciato. In questo caso si era parlato di incentivare il personale medico che è stato impegnato in prima linea e gli operatori hanno cominciato a chiedere qual è l'incentivo. Abbiamo avuto sollecitazioni da chi non è tornato a casa per settimane. Adesso, con l'incentivo promesso, meritano un riconoscimento.